Ora la lucchese intensifica la preparazione con la doppia seduta del mercoledì a Saltocchio. Archiviata la sconfitta casalinga con il Gubbio, la truppa di Gorgone deve guardare avanti al prossimo impegno che si chiama SPAL domenica 18.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Evidente che le prime due giornate, un solo punto e nessun gol segnato, hanno ribadito le difficoltà dei rossoneri che dovranno crescere e non poco. Una settimana di lavoro intenso per Gorgone che si pone l'obiettivo di inserire gli ultimi arrivati e di far crescere la condizione generale della squadra. Anche la SPAL, che partiva da meno tre, non ha avuto abbrivio positivo. Dopo il pareggio casalingo con l'Ascoli, 2-2 in rimonta, è arrivata infatti la pesante sconfitta 0-3 al Curi di Perugia. Insomma, se Lucca piange, Ferrara non ride. Intanto, martedì sera allo stadio Porta Risa, la presentazione della lucchese, calciatori, lo staff tecnico e dirigenti, assente il presidente Bulgarella, sono sfilati sotto la curva ovest dove c'erano circa 400 tifosi. È intervenuta anche l'amministrazione comunale con gli assessori Bruni e Buchignani e gli sponsor che affiancano e sostengono la società rossonera. La serata è stata trasmessa dalla nostra emittente e condotta con maestria dal collega Egidio Conca.